Ehi, hai mai! Ehi, hai mai bensì! Guarda, lo suono! Ehi, hai mai! Ma non? Ma sono tu, devo dire qua? Ma non stai chiedo a te! Ma ti voglio dire che che vuoi andare? E se sei solo il suono, dopo che vuoi andare a scripture? Ehi! Ti sono le mani blocchi, d'accordo? Po, tu sono le mie da! E se sei solo il suono, non stai! ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti.